I set a più componenti per sala operatoria Kitpak vengono confezionati in camere bianche in una sede di LER nella Repubblica Ceca. Il luogo di produzione di Kitpak è stato costruito secondo gli standard di qualità più elevati per rendere possibili processi estremamente efficienti. Diverse centinaia di collaboratori lavorano per realizzare Kitpak in modo corretto e secondo le esigenze dei singoli clienti. Si producono ogni anno circa 4 milioni di set per sala operatoria e ogni giorno raggiungono Lohmann e Rauscher fino a 150 contratti per Kitpak. Poiché ogni cliente riceve set per sala operatoria personalizzati con componenti selezionati, confezionati secondo una successione rigida e stabilita in precedenza, i passaggi della produzione sono complessi e richiedono processi di confezionamento specifici. Il lavoro per ogni set è affidato a un team specifico addetto alla produzione, che compone prima dell'inizio della produzione un Kitpak modello e controlla tutti i componenti e la documentazione relativa. La produzione inizia soltanto dopo l'approvazione del luogo di lavoro. Oltre ai controlli pianificati esattamente durante il processo di produzione, i collaboratori addetti alla qualità svolgono un ulteriore controllo finale standardizzato e autorizzano a procedere alla sterilizzazione del lotto. Garantisce la flessibilità necessaria per la produzione un impianto all'avanguardia di sterilizzazione all'ossido di etilene interno all'azienda. I Kitpak vengono sterilizzati per gran parte nelle camere all'ossido di etilene, in cui il gas si diffonde attraverso gli imballi di cartone e le confezioni. L'impianto di sterilizzazione interno riduce la durata dell'intero processo, aumenta la flessibilità e la velocità di consegna ai clienti.